Senatore Crosio, che tipo di proposta di legge ha presentato? Ma è la proposta di legge per il trafuolo del Mortirolo. La proposta di legge è la base concreta sulla quale si può lavorare. La proposta di legge del trafuolo del Mortirolo chiede al Governo che dia le capacità, la possibilità a Regione Lombardia di farsi promotrice per questa importante opera. Lo concede la legge, passando anche in modo particolare per quanto riguarda il finanziamento, i soldi, attraverso la questione del project financing. Noi crediamo che mai come in questi giorni si è ripresentato la necessità, visto la chiusura ancora una volta della Stratale 36, la necessità di questa importante opera che ha dei vantaggi in ordine logico perché andrebbe a sgravare il traffico sulla 38 e sulla 36. Tra l'altro la facilità per quanto riguarda proprio la sua localizzazione perché rientra all'interno di Legione Lombardia fra due province lombarde, quella di Sondrio e quella di Brescia, per cui facilitata. Noi siamo consapevoli che ci sono altre importanti infrastrutture nella nostra provincia. Dobbiamo terminare la Stratale 38, c'è il traforo della Misocina che non ce lo dimentichiamo e c'è il traforo dello Stelvio e ci sono altre anche importanti opere in campo ferroviario. Ma da subito si può gettare le basi per questa importante opera che è il traforo del Mortirolo. Io sono certo che anche i miei colleghi al Senato si faranno promotori presso il Governo di questa importantissima opera. La Valle lo chiede, la nostra distanza dai centri, da Milano, ce lo chiede. Siamo sempre in difficoltà. Bisogna avere anche il coraggio, e noi abbiamo il coraggio, di fare proposte che sembrano audaci, ma sono alla portata veramente di questo Paese, anche se in sofferenza.